Tutti e bentrovati in un nuovo video Allora oggi vi porto Un modellino della ROS O meglio un telescopico della ROS Che non è più prodotto E questo è il Merlo Il Merlo ovviamente Multifarmer 30.9 Top 2 Prodotto dal 2004 al 2014 Dalla Merlo Allora Cominciamo a spiegare due cosette Per chi non dovrebbe saperlo 30 sarebbe la portata In quintali Che sono 3 tonnellate 9 e lo sbraccio Per quanto riguarda L'elevazione telescopica Top 2 non me lo ricordo In questo momento non mi viene in mente Non mi ricordo cosa voglia dire Top 2 Per il resto Credo che sia un modellino Importantissimo Che tutti dovrebbero avere Nella propria collezione Di modelli smagricolo Però purtroppo Non viene più prodotto Però ci sono altri modi Per poterlo comprare Nuovo come l'ho comprato io E cosiddette Ovviamente Made in China Made in China Andate se vi termina di siti E lo trovate ancora Anche se c'è la probabilità Che vi faranno pagare La dogana Se comprate Questo modello In Cina Quindi Andiamo per dettaglio Questa è la scatola Che presentava L'allora rosse Quindi Un verdino Molto chiaro Con la scritta Multifarmer Come vediamo La scritta Merlo in alto Di lato Non cambierebbe Quasi nulla C'è sempre scritto Il nome del brand Merlo Multifarmer 30.9 Top 2 E Dall'altro lato Invece Ci presenta Il nome Sempre della Merlo Con L'indirizzo Internet Per poter accedere Al sito Internet Del produttore Poi Abbiamo Porte posteriore Che Sempre la stessa cosa C'è scritto Merlo E poi La parte Veramente Che poggia A terra Sarebbe Questa Ci fa vedere La particolarità Del Merlo Che ha Anche L'attacco A Il sollevatore Posteriore Che ha Una portata Di 30 quintali E C'è scritto Nelle varie Linguaggi Italiano Inghilese Francese Questo Ovrebbe Essere Tedesco E Spagnolo Quindi C'è anche Scritto Qui E poi I vari Siti Vedete Merlo Italia Francia Inghilterra CO UK Tedesco Punto De Iberico È uguale Per Quello Italiano Punto Com Quindi Diciamo Che per Quanto Riguarda La scatola Non C'è Nulla Di Particolare Vedete Questa Polisterolo E Nel frattempo Scarto Il modello E Ci rivediamo Tra un pochettino Ora Eccoci qua Il modellino Scartato Si Presenta Così La confezione Quindi Come vediamo C'è il modello Con Alcuni Parti E Degli Attrezzi Da Utilizzare Allora Io Prenderò Il Multifarmer Con molta Delicatezza Perché È un modello Molto 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 Delicato Allora Si presenta Così Vedete Come dicevo Il sollevatore Chiediamo Le ruote Al di sotto Di qua C'è il motore Che è possibile Vederlo E Questo È Quanto Diciamo Il modello Visto Senza Particolari Montati Perché Poi c'è una bustina Che vi dà La rossa Che Ci sono I vari Componenti E io Già mi sono accorto Di una cosa Che manca Una forca Sì perché In Cina I telescopici Funzionano come una forca sola Ovviamente Allora A parte che manca una forca Cosa c'è Allora c'è un lampeggiante Lampeggiante Due Due specchietti E quel coso verde Che non so che cos'è No Dopodiché Vi fornisce Sembra se io riesco a prenderlo Questa benna qui Che non sbaglio Dovrebbe essere Per il letame Questa benna Tutta in metallo Vabbè Questa sicuramente Non è in metallo Ma questo al solito Sarà Zama Questa qui E poi Vi fornisce Quest'altra benna Questa la riesco a prendere Che è questa qua Che se non mi sbaglio È molto più da Insilato forse Non potrei sbagliare Comunque sempre metallo O Zama Quindi questo è Ciò che vi dà In più All'interno della propria scatola E ci dovrebbero essere le forche Ma come vediamo In Cina Che funziona con la Cina Con una forca sola I telescopici E quindi niente Quindi Andiamo nel dettaglio Un attimino Che vorrei farvi vedere Una cosa Allora In teoria Qui Dovrebbe andare Un faro Con Ehm Lo specchietto Quassù Va il lampeggiante Allora Io vorrei fare una cosa Ovviamente Sterzante Questo dovrebbe salire Non vorrei far danni Senza distruggere tutto Questo con il primo Sfilo Alzato Faccio una cosa Appoggio un attimo Il cellulare Così Così No Così Diciamo che andiamo All'interno E Mi alzo Anche L'ultimo Sfilo In modo da Vederlo in tutta La sua altezza Ok Così È completamente Allungato Quindi Saranno 9 metri 30 quintali Però Ovviamente Qui su A 9 metri Non porta 30 quintali Ne porta Molto di meno Se non sbaglio Avevo letto La scheda Tecnia Un 600 chili A 9 metri 30 quintali Sono Giù Qua Poi Come avevo già detto Sollevatore Posteriore Alza sempre 30 quintali Quindi può Essere utilizzato Con Apprezzature Agricole Anche perché Si chiama appunto Multifarmer E poi Cos'altro c'è Di particolare Vedete Scritto qui Sempre se va a fuoco Uh Dai Niente Non si Non vuole collaborare Oggi Il cellulare Ecco Adesso è andato Multifarmer 30.9 Top 2 Allora Di nuovo Mi riabbasso Sto coso Al limite Ci monto Una bella Senza Fa danni Sempre Se ovviamente Riesco a montarla Perché non dovrebbe essere Difficile Così 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 Sarebbe Montato Con Una delle Benne fornite Allora Vediamo un po' Cosa si vede In capina Niente Cellulare Oggi No Collabora Sto notando Che manca anche Lo sterzo Quindi in gina I telescopici Funzionano senza Sterzo Ok Quindi oltre ad avere Una forca in meno Hanno bisogno Di sterzo Ok Poi Qua c'è Un adesivo Che non Cap Non capisco Sarà un adesivo Beh Di Pericolo Ma E' così piccolo Che non Non si vede Questo diciamo L'interno E poi Se non sbaglio Il top 2 Aveva un sistema Che si chiamava O aveva Meglio Ha Un sistema Che si chiama Merlin Che serve Per la gestione Sia Della PTO Perché anche La presa di forza Che per la gestione Del Del Sollevatore E anche Del sollevamento Del braccio Ovviamente Adesso andiamo A vedere La parte Che si apre Del motore Il motore Utilizzato Da Si apre da qua Ma io adesso Devo vedere Se riesco Ad aprirlo Senza Sempre Senza far Danni Ok Ci sono Riuscire Questo è un motore Deutz Da 115 Cavalli Si vede Sembrerebbe Un Motorino D'avviamento Il filtro Le varie tubazioni Qua si dovrebbe vedere Vedete il radiatore Quello dovrebbe essere Una Cassetta Sembrerebbe Batteria Anche perché Ho Liquidi Quel piccolo Sulla sinistra Qua il filtro Dell'aria Vediamo Vedete così Dunque si chiude E anche qui C'è scritto Merlo Multiformer 30.9 Top 2 Con un adesivo Che ovviamente Non si legge niente Perché è talmente piccolo Che Non si legge Comunque Vorrei fare una prova Vediamo Vediamo un po' Come cammina Si cammina abbastanza bene Un po' Perfatti Suono Cammina Devo dire Che Il merlo A me è sempre piaciuto Come modellino Da inserire Nelle farm Ora non so Se gli altri Produttori Con altri modelli Di altre marche Forniscano Anche Diciamo I ricambi O se i ricambi Gli attrezzi Come ha fatto Ross Con la merlo Non so Sinceramente Però Ripeto Qualità Prezzo A parte Ma è in Cina Oggi si è visto In tutta la sua Maestosità E' ottima Perché Ha fatto bene Il modello E Nulla da dire Ripeto Per me E' un modellino Che dovete avere Nelle vostre collezioni Di modellismo agricolo Se non sbaglio Dopo questo E' stato fatto Il 40.9 CS Che è più grande Di questo E Attualmente Non so Credo che sia In produzione Però Mi risulta Un po' Difficile Da reperire Anche quello E Per il resto Niente Io spero Che il video Vi sia piaciuto Purtroppo Ho avuto Questa sventura Ecco Sto vedendo Anche un altro Problema Proprio adesso Qua sopra E Niente Per il resto Se lo avete Che proprio Siete disperati Che ve lo dovete vendere Vendetelo Però Secondo me E' sbagliato E' da tenerselo Per il resto Per il resto È tutto Ci vediamo Al prossimo video E Facendo un piccolo Giretto Guardando Questo piccolo Gioiellino Ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.